Piano Nazionale Scuola Digitale o PNSD, DigComp Edu e DigComp versioni 2.1 e 2.2. Molte delle domande della prova scritta del concorso del 2022 vertono su questi argomenti. Nel video di oggi cerchiamo di metterne in luce i punti salienti. Iniziamo! Bentornate e bentornati su Fuori Classe, il videocorso dedicato alla preparazione del concorso per la scuola. Se vuoi sostenere questo progetto ricordati di mettere mi piace a questo video, di iscriverti a Fuori Classe cliccando sul simbolo della campanella per attivare tutte le notifiche e di condividere questo video sui tuoi canali social. Partiamo come sempre dai riferimenti normativi, ricordando che il PNSD è un documento prodotto da quello che all'epoca era il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con l'obiettivo di innovare la scuola italiana e di mettere a frutto le opportunità dell'educazione digitale. Si tratta di uno dei pilastri della legge 107 del 2015, infatti ne abbiamo parlato proprio nella serie di video dedicata a questa legge. Vi lascio il collegamento per un ripasso veloce o per chi ancora non l'avesse studiata qui in alto nelle informazioni. In particolare leggiamo che è un documento di indirizzo che serve cioè a orientare le azioni della scuola italiana e di un documento al contempo molto esteso che poco si presta a uno studio dell'ultimo minuto in vista esclusivamente di questi scritti. Proprio per questo, per chi come molti di noi non avesse avuto occasione di studiarlo in precedenza, è molto importante compiere uno studio selettivo. Naturalmente questo metodo è per forza di cose rischioso e ci espone alla possibilità di imbatterci in quesiti ai quali non saremo in grado di rispondere. Tuttavia, tentare di memorizzarlo in maniera integrale è altrettanto complicato. Di conseguenza, l'opzione più percorribile è a mio avviso proprio quella di una selezione intelligente. Per cercare di venire incontro soprattutto a chi ha poco tempo, mi sono chiesta su che cosa mi sarei concentrata io stessa se avessi dovuto affrontare la prova scritta nel corso dei prossimi giorni e avessi scoperto un paio di settimane fa che parte delle domande di informatica avrebbe riguardato proprio questi documenti. Basandomi sui quesiti proposti nei giorni scorsi che sono riuscita a grosso modo a ricostruire, probabilmente avrei dedicato particolare attenzione al punto 2.1 dedicato alla storia del Piano Nazionale Scuola Digitale e dei suoi investimenti, ma in particolare alle pagine comprese tra 12 e 14, senza trascurare i paragrafi evidenziati in rosa. Si tratta dunque di tre pagine per cominciare. Come mai ho scelto proprio queste tre pagine? Perché in esse sono elencate le azioni che il governo ha già avviato negli anni tra il 2008 e il 2012, in primis, e poi negli anni 2013 e 2014, per portare a compimento il Piano Nazionale Scuola Digitale. E in effetti una domanda, almeno una, delle prove scritte svoltesi nei giorni scorsi verteva su una di queste, in particolare sull'azione Scuola 2.0. Vediamo rapidamente in cosa consistono queste azioni già compiute o avviate. Cercherò di essere molto sintetica. La prima è l'azione LIM e ovviamente il suo obiettivo era quello di provvedere le aule di una lavagna interattiva multimediale, come in effetti in molte scuole, anche se ancora non tutte, come sappiamo, è stato fatto. Poi l'azione Classi 2.0, con classi scritto con la A in forma di chiocciola, era impegnata sul motto non più la classe in laboratorio, ma il laboratorio in classe, e perseguiva l'obiettivo di ideare e realizzare degli ambienti di apprendimento innovativi, naturalmente, soprattutto dal punto di vista digitale. L'azione Scuola 2.0, dove Scuola è scritto nuovamente con la A in forma di chiocciola, ha consentito a 14 istituti, ai quali sono stati erogati dei fondi speciali, di percorrere una linea di innovazione particolarmente avanzata, in modo da aprire la strada alle altre scuole che successivamente avrebbero potuto trarre giovamento dalle buone prassi e dalle scelte compiute da questi istituti sperimentali. Si passa poi all'azione Editoria Digitale Scolastica. Anche in questo caso, come nell'azione precedente, quella che è stata definita Azione Scuola 2.0, a trarre beneficio dai fondi stanziati sono stati soltanto 20 istituti, ripartiti ovviamente tra i vari ordini e gradi di scuola, ai quali sono stati attribuiti dei fondi speciali con l'obiettivo di produrre contenuti digitali. Inoltre, nel 2012, sono stati stipulati degli accordi tra il MIUR e le regioni, in modo tale che anche queste ultime contribuissero, soprattutto dal punto di vista economico, con lo scopo di agevolare il processo di innovazione digitale, ad esempio acquistando nuove LIM e formando nuove Scuole 2.0 e Classi 2.0. In ultimo, l'azione Centri Scolastici Digitali, CSD, ha avuto l'obiettivo di fornire infrastrutture digitali, soprattutto alle scuole che si trovano in ambienti e in situazioni disagiate, ad esempio nelle piccole isole e nei paesi montani. Negli anni tra il 2013 e il 2014 sono state portate a termine in particolare due azioni, la prima di cui intuitivamente comprenderete lo scopo è naturalmente l'azione Wi-Fi, che aveva l'intento di garantire la copertura di rete alle scuole, stanziando ben 15 milioni per offrire appunto alle scuole la connettività wireless, cioè senza fili. La seconda azione è stata l'azione Poliformativi. Grazie a questa azione, alcune scuole sono state individuate come poliformativi con il compito di formare i docenti dal punto di vista, ovviamente, digitale. La seconda parte del Piano Nazionale Scuola Digitale, su cui mi concentrerei se avessi poco tempo a disposizione e quindi non potessi leggere e studiare in maniera approfondita e completa questo documento, sarebbe sicuramente il quarto capitolo, che come vedrete, o come forse avete già visto, costituisce la parte preponderante di questo documento. Perciò, come fare a studiarlo e a memorizzarlo in breve? Mi concentrerei soltanto, ripeto, si tratta di considerazioni personali, perciò ovviamente non posso in alcun modo garantire che non ci siano poi domande su altro o più nel dettaglio, però vi dico in maniera proprio, appunto, come direi a un'amica o a un amico, come mi regolerei personalmente. Ecco, studierei approfonditamente la parte iniziale di ciascun paragrafo in cui è suddiviso il capitolo 4. Mi spiego meglio. Se scorrete le pagine successive a quella che vi sto mostrando adesso, vedrete che il capitolo 4 è suddiviso in quattro paragrafi e ciascun paragrafo è introdotto da una pagina che sintetizza il suo contenuto. Vi faccio vedere. Come vedete, qui siamo al primo paragrafo, 4.1, e è suddiviso in obiettivi e azioni corrispondenti, cioè le azioni necessarie al raggiungimento di quegli obiettivi. Personalmente studierei a memoria obiettivi e azioni ad essi collegate. Mi limiterei a leggere i titoli delle azioni e, qualora non mi fosse chiaro il significato del titolo attribuito all'azione, andrei allora a verificare nelle pagine successive in che cosa consiste l'azione più specificamente. In caso contrario, cercherei di ragionare sul suo significato in maniera autonoma per accelerare le tempistiche. Facciamo un esempio. L'azione 1 del paragrafo 4.1 è sinteticamente intitolata Fibra per banda ultralarga alla porta di ogni scuola. Per comprendere in che cosa consisterà questa azione, non mi è necessario leggere il paragrafo in cui viene descritto passo dopo passo il procedimento che si seguirà per compiere questa azione. Magari mi riprometterò di studiarla in maniera più approfondita dopo aver superato il concorso, nel momento in cui accederò all'insegnamento e per il momento mi accontenterò di sapere che è la prima azione del primo paragrafo del capitolo 4. Dopo aver studiato approfonditamente le pagine introduttive di ciascun paragrafo che compone il capitolo 4, mi sposterei al capitolo 7 che è molto breve ma contiene una sorta di panoramica, di sintesi, in forma di punti, dell'intero documento. In queste pagine le azioni del PNSD sono suddivise e raggruppate in tre aree strumenti, competenze e contenuti e formazione e accompagnamento. Sotto la voce accesso trovate raggruppati tutti gli strumenti indispensabili a consentire alle scuole l'accesso al digitale e alla rete. Perciò la fibra e la banda ultralarga, il cablaggio interno degli spazi e il canone di connettività che garantisce il diritto a internet a scuola. Analogamente sotto la voce spazi e ambienti per l'apprendimento troverete tutte le azioni intraprese o da intraprendere per adibire gli spazi scolastici alla fruizione di internet e allo svolgimento di didattica digitale. In questa categoria rientra l'azione BYOD Bring Your Own Device che è stata anche questa oggetto di uno dei quesiti della prova scritta. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti sotto a questo video o sulla pagina Facebook di Fuoriclasse o ancora via mail all'indirizzo fuoriclasseacademy-gmail.com se avete dubbi, domande, richieste, se vi state regolando diversamente nello studio di questo documento e nel caso se volete offrire suggerimenti ai vostri colleghi e colleghe che si stanno preparando ad affrontare queste prove. Spero di avervi dato qualche suggerimento utile per ottimizzare i tempi e prepararvi in maniera efficace ad affrontare queste prove in così poco tempo negli ultimi giorni che rimangono. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi video nei quali continueremo a parlare di DigComp Edu e DigComp 2.1 e 2.2 di software e programmi per la didattica di normativa scolastica e soprattutto è in arrivo una playlist dedicata alla preparazione della prova orale. Perciò per non perdere i prossimi video iscrivetevi a Fuoriclasse, cliccate sul simbolo della campanella per attivare le notifiche in modo da ricevere immediatamente il messaggio che vi avverte che ho pubblicato un nuovo video. Ricordatevi che generalmente quando pubblico un nuovo video in anteprima sono collegata in diretta, in chat e potete chiedermi tutto quello che desiderate e se non potete seguire la prima proiezione del video naturalmente potete sempre scrivermi tramite tutti i miei canali e cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Ancora grazie e a presto! Grazie! 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 Grazie!